L'Associazione di Promozione Sociale Luna Cometa di Foggia ha realizzato nell'ambito del progetto Sprar Città-Coglienza del comune di Cirignola nel Boziano un interessante evento per il prossimo 27 gennaio nell'auditorio dell'oratorio Don Bosco. Si parlerà di La Strada del Sole, libro scritto da Francesco Laurenzi, leader della band Vicentina Sun, che raccoglie la crescita umana e spirituale del cantante e della sua band passata dagli eccessi del bank alla scoperta di Dio. Tra l'altro, lo scorso 17 gennaio si è celebrata la giornata mondiale del migrante ed è rifugiato il 27 di questo mese e ci sarà anche la giornata della memoria. Il dialogo sarà moderato dalla giornalista Lucerina Selene di Giovine. Lo Sprar è l'acronimo di Sistema di Protezione per i Chiedenti e Assidori Fuggiati, rete di assistenza e accoglienza che il Ministero dell'Interno ha attivato con la collaborazione degli enti locali per favorire l'emergenza e integrazione in Italia in interventi che aiutino lo stesso in un percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano, regionale e locale.